Il ponte di San Luis Rey. Questo è un libro che volevo leggere da tanto tempo di uno scrittore americano che è nato nel Wisconsin nel 1897. Ha trascorso poi gran parte della sua infanzia in Cina perché era figlio di un ambasciatore, di un diplomatico, meglio, americano. Ritornato negli Stati Uniti ha concluso la sua formazione, sicuramente all'indirizzo letterario, nelle università di Yale e di Princeton. Poi ha lavorato come insegnante di inglese, quindi insegnante di lingua L1, direi, al liceo, fino alla pubblicazione proprio del ponte di San Luis Rey nel 1927, che gli ha dato una notorietà, un successo incredibile, anche grazie al premio Pulitzer per la letteratura, vinto nel 1928, quindi un anno dopo la pubblicazione di questo libro. Fu chiamato e anche firmò tanti contratti per interventi pubblici. Era diventato praticamente un'area notorietà e così poté lasciare l'insegnamento e dedicarsi totalmente alla scrittura. Fu uno degli scrittori più noti e influenti della metà del secolo. I suoi amici includevano Gertrude Stein ed Ernest Hemingway, di cui abbiamo parlato in una delle prime dirette, quando abbiamo letto insieme, per esempio, Festa Mobile, quindi un romanzo di Ernest Hemingway. I suoi altri lavori includono l'apprezzata opera teatrale Our Town, che la critica esalta e giudica decisamente meglio rispetto a un prodotto, un'opera di pregio rispetto al ponte di San Luis Rey. Poi ancora l'agente matrimoniale, quindi altra opera teatrale, The Matchmaker, che è diventato Hello Dolly, quindi sceneggiatura di uno spettacolo famosissimo replicato più e più volte a Broadway. Anche la sceneggiatura del thriller psicologico L'Ombra del Dubbio, Shadow of Doubt, sceneggiatura, dicevamo, di un film il cui regista fu Hitchcock nel 1943. Per cosa si caratterizza Thornton Wilder? Per un'esplorazione della natura umana. E quindi ha poi, se vogliamo, approfondito nelle sue opere teatrali e sceneggiature questa analisi della natura umana che vediamo in nuce, in embrione, anche in questo romanzo del ponte di San Luis Rey. Wilder guadagnò medagne per il servizio militare, partecipò alla Seconda Guerra Mondiale e si distinse per i suoi meriti militari quando andò a combattere sul fronte africano proprio contro italiani e tedeschi. Thornton Wilder, da non confondere con il regista, non si è mai sposato. La maggior parte dei biografi ha concluso che fosse un sessuale, non dichiarato però. ha vissuto i suoi ultimi anni in Connecticut con la sua sorella Isabella, dove è morto nel 1975. Andiamo adesso a parlare del ponte di San Luis Rey. Ecco, i nostri amici sia di YouTube, sia di... ecco, questa è una foto di Thornton Wilder... sia di Facebook, possono vedere una scena che sicuramente anche se non guardate voi di Instagram potete immaginarvela, perché è l'immagine del ponte Morandi di Genova, troncato, con un camion, un camion di un supermercato, che si ferma a pochissimi... fermo a pochissimi metri dal lavoraggine che si era creata per via della caduta, degli stralli del ponte Morandi. È un'immagine che ha colpito tutti noi e tutti noi ci siamo chiesti, ci siamo fatti la stessa domanda che si pone frate Ginepro nel libro Il ponte di San Luis Rey, come mai loro, cioè quelli che erano sul ponte, quando si stava rompendo, spezzando, sono morti? E io no, perché il frate Ginepro si trovava in una cappella, in una chiesa, probabilmente quella chiesa dedicata al re San Luigi, appunto San Luis Rey, che aveva dato il nome anche al ponte e non l'aveva attraversato, non lo stava attraversando mentre si era spezzato, rotto. E quindi si chiede da quel momento in poi, fa un'indagine proprio su quelle persone che sono morte cadendo quando il ponte si è spezzato. Si tratta di una cosa, dicevamo anche all'inizio, che ci interroga profondamente. E possiamo chiederci, c'è una direzione, un significato, oltre la propria volontà? Avviene tutto per caso, caso e necessità, si chiedeva Jacques Monod, infatti. Tutto ciò che facciamo è opera di un caso assolutamente imprevedibile, oppure è predeterminato da Dio? E in quel caso, se è predeterminato da Dio, perché una persona muore e un'altra si salva? Io stesso mi sono posto questi interrogativi quando una mia amica, Angela Zerilli di Corsico, è morta precipitando nel vuoto del ponte Morandi di Genova. Si trovava infatti, il maledetto 14 agosto di qualche anno fa, si trovava diciamo in vacanza in Liguria, si stava spostando da una località all'altra, quando fu un ghiottita, tra le 40 rotte vittime del ponte Morandi. Noi l'abbiamo ricordata, c'è stata una cerimonia funebre qui a Corsico, ma siamo rimasti veramente scioccati, perché si trattava di una persona tranquilla, serena, lo potete anche intuire da questa fotografia, spesso sorridente, e sicuramente l'ultima persona che avrebbe meritato una fine così atroce e assurda. Vediamo per esempio cosa scrive Antonio Costa. Antonio Costa vuole proporre la tematica degli eroi e anti-eroi nella letteratura greca e nella letteratura latina. Possiamo accettare questo tipo di tematica? Molti amici effettivamente ci spingono a fare delle video dirette anche sulla letteratura latina, anche perché ne ho fatto tantissime lezioni di letteratura latina, mi sono piaciute molto su YouTube, e quindi possiamo accettare questa sfida. Per quanto riguarda la letteratura greca, anche lì posso senz'altro prepararmi, anche se non è una delle mie materie di insegnamento, dal momento che ho fatto lettere moderne e non lettere classiche, ma possiamo accettare questa sfida. D'accordo Antonio, benissimo. Ritorniamo quindi al nostro discorso sul ponte di San Luis Rey. Potremmo chiederci quindi cos'è una specie di cronaca di un fatto storico realmente avvenuto. No, in realtà si è inventato tutto. Nel senso che la caduta del ponte è una cosa completamente inventata. Il ponte si intende il ponte di San Luis Rey, quello che abbiamo visto nella copertina, andiamo a guardarlo nuovamente in questa specie di ricostruzione. Si trattava di un ponte di corde fatiscenti, immaginario, inventato dall'autore, che si sarebbe rotto appunto nel 1714, per la precisione il 20 luglio del 1714. Ma ripeto, questa è una storia completamente inventata. Alcuni elementi invece hanno un qualcosa di storico, nel senso che Thornton Wilder aveva letto di un vicere spagnolo, che era governatore quindi della colonia del Perù, che aveva avuto una storia d'amore con una cantante di strada, di nome Micaela Villegas, e aveva, questa donna aveva anche un amante, che si chiamava Manuel de Amat Iunient. Questa donna, questa cantante, veniva, stiamo parlando del 700, ma non del 714, ma di parecchi decenni dopo, quindi un personaggio storico, si faceva chiamare con il soprannome di Perishol. Quindi questi elementi storici, cioè il fatto che ci siano i vicere, che ci sia una donna di teatro, che è un amante che si chiamava Manuel, hanno ispirato Thornton Wilder. Tutte le altre cose che sono presenti nel libro sono inventate. Un'altra cosa però che ha ispirato Thornton Wilder è stato il fatto che la grande scrittrice francese, Madame de Sévigny, pubblicò un epistolario, cioè delle lettere scritte a sua figlia. Ecco, nel romanzo, in realtà, chi scrive le lettere a sua figlia non è francese, non è una madame francese, come quella realmente esistita, Madame de Sévigny, ma è la marchesa, donna Maria, vedremo. Però anche questo è un personaggio storico che ha ispirato Thornton Wilder. Come vedete, si è fatto ispirare da queste notizie storiche, su questi personaggi storici, ma poi li ha inseriti nel romanzo in maniera del tutto stravolta, originale, insomma, fantastica, fantasiosa. Ecco, di che cosa si parla, dicevamo, in questo romanzo? Allora, si dice che in quel 20 luglio del 1714, un ponte che aveva più di 100 anni, che era molto suggestivo, bello, bellissimo, fatto di corde e che dava un po' il brivido dell'avventura, perché permetteva di collegare Lima e Cuzco, importanti città del Perù, una capitale, diciamo, della Colonia, e l'altra, la città storica, insomma, della cività degli Inca, permetteva di collegare, vi dicevo, queste due città in mezzo alle montagne, evitando quindi un percorso tortuoso attraverso la valle e molto più lungo, quindi era qualcosa che affascinava, ecco, ripeto, sempre nella finzione, non è una cosa storica questa, attenzione, è una cosa che indubbiamente affascinava insomma, la gente dell'epoca, appunto, nel Perù. Ebbene, cosa succede improvvisamente? Succede che questo ponte che ha retto per più di cento anni, improvvisamente, crolla senza preavviso e, in combinazione, c'erano cinque persone su questo ponte che vengono tra volte gettate giù in un baratro, in un abisso profondissimo e quindi muoiono sul colpo. Queste cinque persone sono la Marchesa di Montemaior che è appunto quella che scrive, che aveva scritto lettere a sua figlia. La piccola Pepita era un'orfana che era stata assegnata alla Marchesa come compagna dalla badessa, la badessa che poi noi conosceremo Maria del Pilar era la responsabile di un orfanotrofio e quindi una di queste sue orfane, tra l'altro una sua grande aiutante, era stata assegnata, data, insomma, alla Marchesa come dama di compagnia e si trovava insieme alla Marchesa quando il ponte era crollato e quindi morì anche questa ragazza, questa giovane che si chiamava Pepita. Insieme a lei morì anche Esteban che era anche lui un orfano che proveniva dall'orfanotrofio della badessa Maria del Pilar che era in lutto per la morte prematura del suo gemello identico Manuel e Manuel ricordate che ho già parlato di un nome di un certo Manuel amante della Perisciol effettivamente Manuel era invaghito e innamorato della Perisciol nel romanzo ma era morto prima lui era molto abbattuto per fortuna qualcuno gli aveva proposto un viaggio per distrarsi un po' da questa perdita da questa mancanza ma poi combinazione questo tale che gli aveva proposto questo viaggio che quindi stava insieme con Esteban non si trovava sul ponte quando il ponte crollò e si trovava invece Esteban che morì poi c'erano altre due persone insieme che erano lo zio Pio che è una specie di protettore della Perisciol quindi di quella vi ricordate di quella donna di teatro e il figlio della Perisciol aveva avuto con il vicere uno dei figli che la Perisciol aveva avuto con il vicere un certo Jaime di sette anni era in modo che lui aveva adesso ne parleremo più approfonditamente lo zio Pio per mantenere un legame con questa donna che si era allontanata da lui quindi dicevamo che il frate Ginepro assiste a questa scena drammatica all'inizio del libro e riflette su questa cosa dice voglio andare a fondo voglio cercare di capire come mai questi cinque sono morti allora lui è un frate e quindi parte dal presupposto dall'ipotesi da verificare però da provare che questo crollo del ponte è stato un atto voluto da Dio perché appunto in quanto frate crede che nella sua prescienza Dio possa conoscere tutto quello che accade ma che deve essere in qualche modo giustificato deve avere un senso deve avere un significato e così inizia a indagare sulla vita di queste cinque vittime registrando anche i fatti più banali in un enorme libro che spera alla fine possa aiutarlo a capire come mai il ponte è crollato perché Dio ha permesso che il ponte crollasse eppure nonostante tutte le sue buone intenzioni lui non è in grado di comprendere fino in fondo quello che è avvenuto ad esempio questi cinque soggetti di cui adesso inizia l'indagine non è detto che siano cattivi anzi addirittura abbiamo detto che Jaime è un bambino praticamente di sette anni Pepita è una ragazzina che ha qualche anno in più indubbiamente ma che è molto molto buona e lo stesso anche Esteban possiamo dire che era buono poi insomma la marchesa di Montemaiore lo zio Pio avevano i loro difetti indubbiamente però accanto a questi difetti aveva anche qualcosa di buono di positivo e allora non c'è un significato lui implicitamente alla fine senza arrivare ad ammettere questo alla fine di questa indagine diciamo che non arriva a trovare un significato per tutto quello che è successo lui all'inizio si chiede se ci fosse un piano nell'universo se ci fosse uno schema in una vita umana sicuramente potrebbe essere scoperto misteriosamente latente in quelle vite così improvvisamente interrotte o viviamo per caso e moriamo per caso oppure viviamo secondo un piano e moriamo secondo un piano queste sono le due ipotesi che va a verificare fra Ginepro e il fatto che in buona sostanza non si trovi questo piano questo senso a quello che è accaduto diciamo che lo porta ad essere addirittura considerato come un eretico perché il libro che lui ha con tutte le testimonianze che ha preso di queste cinque persone che sono morte non può far altro se non portare a quella conclusione cioè che è il caso che ha voluto che quelle cinque persone si trovassero lì su quel ponte proprio nel momento in cui è crollato ecco il romanzo quindi pone la sua idea centrale se quello che accade ha o meno un significato divino e si arriva alla conclusione che è impossibile razionalizzare eventi che così appaiono assolutamente casuali questo incidente non è importante in sé ma diventa quindi un simbolo attraverso il quale si può cercare di capire molte delle calamità che pervadono la nostra vita quindi mentre frate Ginepro vuole usare il crollo del ponte per giustificare e comprendere il piano di Dio un suo amico che possiamo definire agnostico miscredente lo interpreta come un segno della totale imprevedibilità della vita e della morte ed è se vogliamo questi due personaggi rappresentano forse le due anime dello stesso scrittore Thornton Wilder che non è in grado di dare una risposta e non vuole dare una risposta comunque alle domande che vengono poste dal romanzo perché si trova anche lui nel dubbio ancora altre cose su questo personaggio di frate Ginepro e dicevamo un personaggio molto contraddittorio perché a un certo punto forse si insinua in lui il sospetto che almeno la morte di Dona Maria la Marchesa e dello zio Pio sembrano essere delle morti giustificabili ma in realtà poi alla fine capisce che niente può essere semplificato in questo modo ma questo lo capisce soprattutto il lettore forse anche frate Ginepro ma non lo dice in maniera esplicita il fotogramma che abbiamo scelto che stiamo facendo vedere è tratto dal film del 2004 ci sono state infatti tre trasposizioni cinematografiche di questo romanzo una nel 1929 un grande successo un'altra nel 1944 anche questa seconda versione un grande successo e una del 2004 che è stato un totale fallimento e un flop anche se gli attori di questa versione del 2004 erano attori di grande spessore però ripeto il film al botteghino fece rendere qualcosa come 40.000 dollari cioè una somma che non era sufficiente neanche per pagare uno di quegli attori che parteciparono insomma alla realizzazione di questo film ecco ovviamente come mai è ambientato nel Peru questa storia probabilmente questa storia è ambientata nel Peru perché il Peru nel 18esimo secolo era una colonia spagnola dove c'era molta devozione e quindi appunto chiese conventi e cose di questo di questo genere anche lo stesso frate Ginepro ovviamente molto devoto ed era un italiano che era giunto in Peru per evangelizzare la gente del posto però vi ripeto poi l'impossibilità di razionalizzare quella carneficina lasciò tutti quanti senza parole diciamo però il 18esimo secolo dobbiamo ricordarlo che è anche il secolo dell'illuminismo e quindi è un secolo in cui si assiste al rapido sviluppo scientifico al progresso economico che sembra enfatizzare il potere degli esseri umani di definire il proprio futuro e allora un'altra ipotesi che l'uomo man mano a partire appunto da questi secoli incomincia a seguire è quella che l'uomo abbia il potere di definire il suo futuro che non ci sia quindi un piano providenziale ma che sia l'uomo a poter determinare il suo futuro ma anche questa visione viene messa profondamente in crisi da avvenimenti come quello appunto del crollo di questo ponte bene passiamo alla seconda parte del romanzo che riguarda la Marchesa de Montemayor e Pepita qui abbiamo l'attrice che interpreta la Marchesa di Montemayor in quel film del 2004 e qui invece abbiamo un fotogramma tratto dal film del 1944 che rappresenta appunto la Marchesa insieme con Pepita cioè con questa sua aiutante che abbiamo detto veniva dall'orfanotrofio e che andò a morire insieme con lei sul ponte abbiamo già anticipato che il personaggio della Marchesa è un personaggio contraddittorio è un personaggio che ha aspetti decisamente negativi e aspetti anche positivi per esempio lei ha avuto dei figli ed è ossessionata soprattutto da una di queste da una figlia donna Clara nel senso che vuole il bene di questa di questa ragazza di questa giovane però lei si donna Clara si sente soffocare da sua madre e quindi a un certo punto decide di scappare di andare in Spagna e sposerà uno spagnolo e quindi si allontana radicalmente da sua madre da quel momento in poi donna Maria vive un grande con grande senso di disagio di amarezza di perdita di mancanza per la lontananza di questa di questa figlia e allora si lascia andare in buona sostanza si trasforma in una donna centrica e invecchia rapidamente quasi diventa lo zimbello di tutta la città di Lima e questo è un momento però nel quale comincia a scrivere delle lettere a sua figlia appunto a donna Clara che si trova in Spagna bene queste lettere non sono prive però di un certo spirito arguto anche satirico e quindi diventano un testo di letteratura un'opera letteraria molto acclamata nella società coloniale peruviana e così l'arte può aiutare i personaggi a trascendere e superare i propri difetti per creare opere di profonda bellezza e comprensione come appunto l'epistolario della Marchesa ecco praticamente lei cioè la Marchesa Dona Maria sta intraprendendo un pellegrinaggio per pregare per la salute di sua figlia perché ha saputo comunque che sta aspettando un figlio Dona Clara sta aspettando un figlio quindi lei un nipote diciamo in chiesa si rende conto che non sarà mai in grado di controllare però cosa succede a sua figlia lontano in Spagna e come sua figlia si sente e come percepisce ancora la madre che è rimasta così lontana da lei allora sembra quasi che lei possa migliorare il suo carattere che era divenuto spigoloso a causa della lontananza della figlia però proprio quando sta avvenendo forse questo suo cambiamento in meglio lei muore nel crollo del ponte ed è quindi incapace di perseguire le sue pur buone intenzioni stavamo dicendo quindi che Dona Maria aveva preso come sua compagna Pepita Pepita è una ragazza buonissima bravissima cresciuta nel convento di Santa Maria de las Rosas e quindi aveva accompagnato la Marchesa ecco la Badessa che era appunto la responsabile di questo convento di Santa Maria de las Rosas aveva molta fiducia in Pepita però proprio perché aveva fiducia in lei e voleva lasciarle forse addirittura anche la guida dell'orfanotrofio l'aveva educata in un modo molto rigido le aveva impedito insomma di godere della sua infanzia e l'aveva resa un po' infelice Pepita quindi sta per scrivere una lettera alla Badessa Maria del Pilar lamentandosi della sua miseria della sua solitudine della mancanza di felicità che ha caratterizzato la sua vita ma quella lettera anche quella rimarrà inutile perché poi come vi ho spiegato prima la Marchesa e Pepita moriranno nel crollo del ponte andiamo adesso a vedere ecco qui dicevamo abbiamo già visto il fotogramma della Marchesa e di Pepita tratto da quel film molto più remoto nel tempo passiamo alla parte terza del romanzo la parte terza riguarda un'altra delle vittime del ponte di San Luis Rey che è Esteban bene Esteban era abbiamo detto un orfano ed era vissuto sempre a fianco al suo fratello gemello Manuel consegnati all'orfanotrofio della Badessa Maria del Pilar che lo stesso orfanotrofio dicevamo di Pepita ebbene questi due gemelli crescono sotto le cure salde ma gentili forse un po' più gentili verso questi due gemelli rispetto a quanto era invece stata dura severa e rigida la Badessa con Pepita lavorano facendo di tutto fare in città a Lima sempre insieme tuttavia c'è una grossa differenza fra i due Esteban chiude il cerchio diciamo dei suoi orizzonti all'interno del rapporto con il fratello gli vuole tantissimo bene è tantissimo legato a lui e non pensa assolutamente ad altro invece Manuela si innamora dell'attrice protagonista di uno spettacolo che era in scena a Lima che è appunto Camilla Pericholl quella di cui abbiamo parlato anche prima comincia a gironzolare per il teatro non pensa ad altro che a questa donna è elettrizzato quando lei lo chiama un giorno e comincia un rapporto segreto Manuel scrive lettere per lei però questa cosa mette in becrisi Esteban perché Esteban si sente tradito dal fatto che per la prima volta suo fratello ha dei sentimenti che non lo includono alla fine Manuel si rende conto che deve scegliere tra la sua passione per l'attrice e il suo rapporto con il fratello sceglie di rimanere fedele a Esteban e informa bruscamente la perichol della fine della corrispondenza amorosa poi però che cosa succede? Succede che Manuel per un incidente insomma si fa molto male e si taglia il ginocchio praticamente con un ferro però la gamba va in cancrena e non adeguatamente curata questa cancrena porterà addirittura alla morte di Manuel questo come già detto prima getta nello sconforto Esteban per questa infezione quindi addirittura il fratello è morto malgrado tutte le cure di Esteban che però evidentemente non era in grado da un punto di vista medico di impedire quello che era successo e allora Esteban cerca qualcosa che lo possa distrarre da questa disgrazia da questo dolore tremendo e in particolar modo è l'abadessa che era sempre rimasta in contatto comunque con questi due ex orfani del suo orfanotrofio manda a cercare il giovane e trova un capitano il capitano Alvarado che sta per salpare per un viaggio avventuroso è un grande esploratore e gli chiede di di offrire ad Esteban di accompagnarlo di poterlo accompagnare Esteban accetta l'offerta è molto turbato comunque aveva cercato di impiccarsi per il dolore della morte del fratello però il capitano Alvarado era riuscito a sbagli la vita e quindi tutti e due speranzosi si dirigono verso Lima raggiungono il ponte Esteban inizia ad attraversarlo il capitano Alvarado rimane indietro quindi Esteban muore nel crollo e il capitano no altri personaggi per esempio un altro personaggio che muore in questo crollo è lo zio Pio ecco chi è lo zio Pio? praticamente si tratta del precettore e assistente di recitazione di Camilla Perischoll la sua storia è molto complicata lui era nato in Spagna non in Perù fuori dal matrimonio era un figlio naturale un figlio illegittimo di un ricco nobile spagnolo aveva vissuto per le strade di Madrid e insomma aveva sicuramente sviluppato una passione per il teatro ma era anche invischiato in certe brutte questioni di malavita e quindi a un certo punto è costretto scappare dalla Spagna perché è ricercato dalle forze dell'ordine arriva a Lima e la sua passione per il teatro lo porta ad adottare questa giovane Camilla Perischoll che era una giovane comunque molto povera che cantava per le strade di Lima e si mette in testa di trasformarla in una vera e propria attrice per fortuna trova in lei grandi attitudini e così lei diventa una grandissima attrice apprezzata in tutto il paese come appunto stavamo dicendo lo stesso Manuel l'aveva vista in uno spettacolo teatrale e si era innamorato di lei ah ecco e scrive per esempio intanto salutiamo Mastro Simone Lucia Francesca Vianney Becerra Simone Paoleschi scrive è strano che la pellicola del 2004 non riscosse successo visto attori attori straordinari veramente Kathy Bates Geraldine Chaplin Robert De Niro Harvey Keitel per esempio proprio il ruolo di Zio Pio fu interpretato da Harvey Keitel qui vedete un fotogramma i nostri amici per esempio di Youtube e di Facebook stanno guardando questo fotogramma è un attore straordinario bravissimo eppure appunto vi stavo spiegando che questo film del 2004 fu un flop incredibile insomma comunque sta di fatto che Zio Pio diventa abbastanza pretenzioso nei confronti di Camilla Perichon vuole che segua in maniera molto rigida i suoi dettami di recitazione per esempio e questo a un certo punto disturba talmente tanto la Perichol che lei lascia stare il teatro si allontana radicalmente dallo Zio Pio si è innamorata si è innamorato di lei anche il vice spagnolo eccola qua per esempio vediamo delle immagini proprio di Camilla Villegas ecco l'attrice Pilar Lopez de Ayana Camilla Villegas è il nome di questa attrice che ha come soprannome appunto dicevamo La Perichol una donna bellissima quindi tanto che si innamora di lei dicevamo anche il vicere spagnolo e lei ha con questo vicere dei figli tra cui questo Jaime allora lo Zio Pio ritorna da lei ritorna dalla Camilla Perichol che all'inizio non voleva saperne di aprirgli la porta insomma ma poi lui si offre di accompagnare suo figlio il figlio di lei Jaime e di stare insieme a lui solo che poi come abbiamo visto i due sono travolti dal ponte ecco qui abbiamo tante ossessioni alcune le abbiamo già viste sono quelle della Marchesa per esempio l'ossessione per la figlia donna Clara l'ossessione dello Zio Pio invece è quella per il teatro spagnolo ed è molto rigido anche in queste sue ossessioni esagerato al punto che come stavamo dicendo prima Camilla a un certo punto decide di lasciarlo di andare via da lui ecco per esempio però proprio la la malattia che aveva contratto la Perishol a un certo punto si era ammalata di Vaiolo aveva perso parte della sua bellezza permette allo Zio Pio di riavvicinarsi alla Perishol quindi a questa attrice e di assumere dicevamo la direzione della casa la direzione dei suoi figli e appunto offrirsi di accompagnare suo figlio Jaime in questo viaggio per Lima dove appunto però però lui lo Zio Pio e anche lo stesso Jaime troveranno la morte dicevamo personaggi contraddittori anche questo personaggio dello Zio Pio quindi ha le sue fisse alle sue manie però mostra una grande sensibilità artistica e conoscenza della storia del teatro classico spagnolo ecco quindi stavamo dicendo un'altra immagine un altro fotogramma dello Zio Pio proprio nel momento in cui nel film del 2004 sta attraversando il ponte di Corde il ponte di San Luis a fianco a questo bambino insomma che era il figlio della Perisciol arriviamo pertanto adesso verso l'epilogo della nostra storia qui un altro fotogramma che ci rappresenta Murray Abraham un altro importantissimo attore che è interpretato il vicere del Perù nella in quel film dicevamo del 2004 il vicere era praticamente delegato del re spagnolo capo dell'amministrazione coloniale di Lima e spesso interessato più comunque ad arricchire se stesso e a condurre una vita stravagante appunto spensierata spesso anche ai danni della della popolazione che era sfruttata comunque all'epoca prende la Camilla Perisciol come amante e ha insieme con lei tre figli ecco stavamo dicendo che ci stiamo avvicinando all'epilogo della storia dopo aver fatto tutta questa indagine su queste cinque persone morte diciamo che frate Ginepro pubblica il frutto di questo suo lavoro e questa pubblicazione mette in grave crisi la chiesa perché risulta abbastanza chiaro che non c'è una logica in queste cinque morti non è riuscito a dimostrare le sue tesi il frate Ginepro e allora alla fine l'inquisizione spagnola decide che il libro di frate Ginepro è eretico e lui viene bruciato sul logo sul rogo scusate a Lima quindi nella capitale convinto però che come dire che quello sia un sacrificio voluto da io e quindi che deve avere una spiegazione anche quello e quindi non muore disperato il nostro frate Ginepro anche se muore bruciato sul rogo poi con una specie di flashback si torna indietro alla cerimonia commemorativa di tutte le vittime quando l'arcivescovo che comunque indubbiamente rappresenta qui vedete interpretato da Robert De Niro rappresenta la chiesa come istituzione spesso fredda e lontana dal popolo fa una predica e assistono a questa cerimonia la Camilla Perishol assiste la Badesa e assiste frate Ginepro che non è ancora morto perché abbiamo detto che in realtà si torna indietro nel tempo e questo è il momento in cui si pongono fortemente in contrasto i due modi di vivere intanto qui abbiamo un nostro amico Dado Peluso che vorrebbe intervenire e quindi sta telefonandoci per il semplice fatto che vuole intervenire e quindi vuole essere accettato nella nostra diretta YouTube torniamo quindi immediatamente alla alla nostro non riusciamo a vederlo però andiamo a telefonarli quindi caro Dado devi semplicemente cliccare sul link eccolo qua vediamo un po' se riusciamo a trovare Dado Peluso il nostro amico è un professore di liceo che è vissuto per tantissimo tempo in Perù cioè è andato in Perù praticamente in missione con dei suoi amici e quindi vuole intervenire alla serata di oggi dicendoci qualcosa su questo libro Dado ci sei? dimmi allora devi cliccare sul link che ti ho spedito oggi su questo è con Gianni Petteani no 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 Gianni Petteani era per farti vedere cosa succedeva abbiamo parlato con lui il 27 gennaio giornata della memoria ok ok invece tu adesso devi cliccare sul link che ti ho spedito su Whatsapp hai capito? ok ok prova mi sono mandato quello devi cliccare però prova a cliccare stiamo cercando di spiegare adesso te lo spiego su Whatsapp ok? cosa devi cliccare perché magari non hai capito allora è questo qua qui ecco devi cliccare su StreamYard devi cliccare con il cellulare va benissimo con il computer va benissimo intanto leggiamo che cosa hanno scritto i nostri amici qua su su YouTube a commento di questo libro vediamo per esempio Paolo Rossi buonasera a tutti Melvin Johnson quando tratterai il Cile ci puoi trattare anche la città di Santiago spiegando in che modo c'entra con Santiago di Compostela ecco siamo d'accordo con il mio amico cileno che siccome su Santiago veramente si potrebbe fare un'altra serata allora parliamo del Cile in generale dopo domani e invece di Santiago del Cile parleremo in una serata a parte un'altra cosa che trovo di fondamentale importanza di trattare del Cile sarebbe il maremoto del 2004 bene allora il nostro amico cileno ci come dire risponderà tutti questi dubbi dopo domani nella diretta di dopo domani anche Melvin Johnson è d'accordo con Antonio di fare una bella diretta sulla letteratura greca e latina eroi e antieroi ragazzi mi sa che le live di stasera me la perdo però la riguarderò su Youtube benissimo non c'è problema Melvin puoi riguardarla su Youtube senza nessun problema ecco attenzione io ho visto il film del 44 e non quello del 2004 tra l'altro intanto salutiamo anche Dudley Pereda Serrano ecco il film del 2004 ha una sceneggiatura completamente stravolta rispetto al libro di Thornton Wilder capite e quindi ecco Dado sei riuscito a cliccare sul link guarda link copiato te lo rispedisco qua su Youtube no scusami su devi cliccare semplicemente su quel link che si trova nel messaggio di Whatsapp che ti ho appena spedito ok benissimo allora stavamo dicendo quindi che io ho visto il film del 1944 si trattava come stavo spiegando di un film che invece aveva avuto un buon successo per non parlare di quello del 29 ecco il film del 44 ha una sceneggiatura completamente diversa rispetto al libro quindi vedere quel film e vedere il libro è come vedere due opere completamente diverse l'una dall'altra paradossalmente io che ho visto il libro che ho letto il libro e visto quel film nel 1944 devo dire che quel film ha una sua logica insomma effettivamente sviluppa delle storie d'amore in particolar modo abbiamo detto quella di Manuel e del vicere con la Perishol e anche ovviamente il rapporto particolare che era Oziopio con la Perishol quindi sviluppa soprattutto questi temi rendendo comunque la storia quasi quasi più solida rispetto al libro il libro parte dal presupposto che le vite degli uomini sono contraddittorie e quindi si trovano spesso delle incoerenze o delle cose che non si riescono a mettere bene insieme non c'è un filo così chiaro perché in buona sostanza Thornton Wilder vuole dimostrarci che non esiste un disegno così preciso nella storia degli uomini bene nel film invece del 44 abbiamo una storia che ha una sua coerenza ma è soprattutto dicevamo una storia del rapporto d'amore con la Perishol di tanti uomini che sono gelosi l'uno dell'altro so se mi sono spiegato bene Dado allora ci sei? Dado mi devi dire cosa stai facendo? ecco devi solo fare una cosa cliccare capisci? anche con il cellulare va benissimo eh? no non riesce a cliccare devi cliccare dove c'è scritto StreamYard ci sei Dado? no StreamYard StreamYard devi cliccare quello devi cliccare ci sei? l'ultimo StreamYard gli ho spedito un po' troppi link gli ho fatto vedere cosa succede quando facciamo un video con un ospite e allora lui cliccava sul video del 27 gennaio la giornata della memoria vi ricordate con il nostro amico Gianni Peteani figlio della partigiana e allora si è un po' confuso invece lui tu devi cliccare dove c'è quella hai cliccato? hai cliccato? mi ha cliccato si quando clicca devi aprire un browser che sia Firefox che sia Chrome che sia Safari non lo so devi comunque andare avanti cioè cliccare una volta che ti dice di entrare come browser qualsiasi devi dirgli di sì devi andare avanti devi scrivere il tuo nome e cognome ah ti chiede di scaricare Chrome ma non ce l'hai Chrome sul tuo computer? guarda non lo so adesso sinceramente conviene che tu intervieni semplicemente a livello audio perché vedo che a livello video non riesci a meno che tu non parti con il cellulare se hai un cellulare di ultima generazione cioè un semplicissimo smartphone puoi cliccare da Whatsapp capisci? devi cliccare da Whatsapp ah ok volevo invitare il mio amico Dado ma insomma fa un po' fatica ecco a entrare vuoi parlare a livello audio? dai vuoi dirci qualcosa? come? stream yard col cellulare bravissimo vuoi provarci? dai col cellulare clicca su Whatsapp dal cellulare dove c'è scritto stream yard però ma anche sul cellulare come? non stai riuscendo a cliccare quando clicchi ti dice ti blocca? non ti fa entrare? lasciamo perdere se vuoi dirci qualcosa a livello audio sul ponte di San Luis noi siamo tutto orecchi hai letto questo? sì certo ti lo hai letto anche fa tu hai letto della colonia no? sì volevi parlarci del Perù coloniale benissimo i dati i dati i dati brevemente perché purtroppo con questo sistema mi spazzano a vedere in faccia brevemente sono questi i dati quest'oppa letteraria di questo grande romanziere nordamericano Thornton Wilder è un punto di apprivio molto interessante perché fissa un momento storico reale in cui il personaggio uno dei personaggi della storia visse nell'epoca di splendore del Perù il virainato del Perù che chiamavano la perricioli cioè che vuole dire perra o dire il cane è un nome offensivo che si dava alle donne prostitute diremmo cioli perché il termine ciolo significa la persona che è un incrocio diremmo che è un incrocio o fra l'Indio o il Spagnolo o della Sierra cioè la montagna però era una donna nobile di animo nobile grande quindi molto stimata nel virainato e poi ci sono altri personaggi della storia il vice re come? il vice re il vice re esatto ed è molto interessante che la domanda che si pone l'autore quella che poi determina la struttura del libro perché ricordo è proprio come mai si servono queste persone cioè cosa era accaduto cioè cosa doveva accadere a loro quindi è il grande tema del destino allora quello che dico che è interessante anche come sfondo storico è che realmente nella colonia spagnola dell'America Latina i primi due secoli quindi fino alla metà del settecento quando si affermano anche in Spagna i borboni tutto il cinquecento con ancora metà del seicento meglio cioè quindi all'epoca di pieno barocco di cultura barocca il mondo sudamericano è un mondo in grande fermento perché le migliori energie di intelligenza di umanità di forza spirituale della Spagna quelli che potremmo chiamare i cadetti delle grandi famiglie cioè di quelle famiglie che avevano costituito a metà del quattrocento del cinquecento la Spagna l'impero spagnolo riconquistando le ultime roccaforti arabe in Spagna con 1492 la famosa data di fatto queste grandi famiglie sono quelle che poi si lanciano alla conquista di nuove terre e che hanno le famiglie più nobili più alti e chiamavano gli Hidalgos cioè Hidalgo gli figli non non il primo genito di queste famiglie le più nobili ma erano Hidalgos anche i padri lomericani i padri poi i francescani i padri poi saranno i gesuiti quindi nel romanzo pur scritto nel novecento appunto da un autore americano però si percepisce sullo sfondo questa grandezza di identità e lo sfondo storico è veramente questo cioè Lima possedeva pochissimi schiavi in proporzione a proporzione rispetto ad altre città rispetto al nord americo o altissimamente nord americani che è stato maggiorato gli schiavi anche se ce ne erano già degli schiavi neri perché perché le persone indio di origine indio cioè indigeni come si chiamano ancora adesso gli indigeni nessuno di questi indigeni era schiavo neanche serbo perché per la grande ripartizione che obbligò il papa tra i portugesi e le spagnoli a non sottometre gli schiavi in proporzioni locali queste vennero riconosciute nella loro dignità e allora la popolazione di Lima fondata nel 1932 prima città dei re perché fu fondata il 10 gennaio già quattro giorni dopo quindi la festa di immagini dell'epifania di re la popolazione di Lima allora contava su una popolazione di un numero altamente basso di schiavi neri di colore che avevano una interessante molti indigeni che lavoravano e questi nobili spagnoli o le guarnigioni spagnoli e c'era poi tutti gli ordini religiosi più importanti che erano i quattro grandi ordini religiosi che venivano dal nuovo dal continente sono dalla Spagna ed erano i mercedari tantissimo ordine che avevano liberato gli schiavi i cristiani fatti schiavi dagli arabi in cambio di se stessi quindi erano un ordine incredibile gli agostiniani i francescani i dominicani questo nel 1930 30 e 40 e arriveranno molto dopo 40 quasi anni dopo di Gesù 30 anni dopo Gesù quindi nel nel romanzo nell'opera c'è il riflesso di questo mondo di questa ricchezza umana ideale di questa spiritualità di questi grandi ordini tant'è vero santo marzo mi fermo tant'è vero che questi primi 50 anni della fondazione di Lima e ancora nei primi del primo decennio del seicento abbiamo in questa città che non aveva una popolazione che non sopra i 40 cittadini a persone abbiamo 4 5 grandi santi 1 2 locali perché san martin di porres era figlio di una schiava nera infatti era mulatto lui mulatto e di un cavaliere spagnolo che ha iniziato continuato a combattere non lo riconosce in realtà lo riconosce perché gli dà una provisione e poi verrà riconosciuto come cognome e viene entrare in monastia del dominicano e diventa un fratello laico si diceva cioè non è sacerdote ma è religioso infatti è un santo dominicano poi c'è la grande santa rosa da Lima che è patrona del Perù ed è patrona anche dell'immaginizzazione e santa rosa rima che la figlia sempre di uno spagnolo di una donna in India diceva diciamo che era una devotissima santa catrina anastasina ed è una figura analogo perché lavorava lavorava e poi c'è un episodio che con lei racconta poi c'è fra Torino di Torino di Mongrove del cardinale vescovo della città che convoca dei concili importantissimi e poi c'è Sanfamassiaco a Francescano per cui in questo primo secolo dalla fondazione della città all'inizio dalle 1600 sono queste grandi figure di santi e tra l'altro i primi due battezzati o cresimati da San Antonio di Conclore San Martino Allora Dado sicuramente il tuo intervento è interessantissimo questo scrittore nordamericano ha voluto comunque rappresentare un po' di questo fascino che è presente che era presente nel Perù dei primi secoli giusto? Certo dove si mescolano questi personaggi che come la Pericciola ecco lo dicevo la francese invece si dice Pericciole vero? quasi perché è spagnolo il termine Spagnolo è Pericciola 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 è la desinenza femminile singolare il dicionglo è la desinenza maschile singolare è un personaggio simbolico importante perché parte come è reale infatti era asatto infatti è quello che abbiamo detto è la donna più importante della città perché in realtà il dicerei quello frangente era relativamente sempre invece era una donna di valore e anche una certa spiritualità seppur dell'opinione pubblica era una cortigiana ecco una cortigiana appunto per via di quell'etimologia che stavi raccontando bene allora la cortigiania è una cortigiania è una corte offensiva certo in termine quasi offensivo infatti l'abbiamo spiegato all'inizio che proprio probabilmente Thornton Wilder legge questa storia vera di questa pericciola con il vicere spagnolo che ha dei figli era sua amante il vicere spagnolo eccetera e poi prende spunto da questo per questa storia un po' inventata invece del ponte di San Luis Rey io Dado ti ringrazio tantissimo del tuo contributo audio e poi magari un'altra volta dobbiamo fare prima le prove sì bisogna fare prima le prove sì esatto esatto niente volevo salutare tutti quanti i nostri amici perché purtroppo noi a quest'ora anche terminiamo il nostro piccolo contributo e rimandarli a un incontro che facciamo dopo domani con un mio amico cileno di Corsico che si chiama Miguel perché dopo domani parliamo del Cile poi sabato facciamo una serata su De André sai che un po' io mi conosci no? un po' quel vizio insomma lì della musica e poi tantissime altre serate poi ne faremo un'altra che con te sicuramente però faremo prima la prova benissimo a me va molto molto bene come idea quindi facciamo una serata sul Perù insieme con il mio amico il professor Dado Peluso professore di liceo grande collega diciamo mio fino a un anno fa quando poi invece ho preso un'altra strada e ho iniziato a fare dirigente scolastico grazie Dado grazie a tutti voi ci rivediamo dopo domani per un incontro sul Cile e poi ancora sabato per un incontro su De André grazie a tutti è momento di terminare la nostra diretta end broadcast grazie a tutti